La Gliternina ottiene la seconda vittoria consecutiva, superando con il minimo scarto la Turris di fronte al pubblico amico. Nel giorno del ricordo di Gabriele Di Vito, i Biancorossi interrompono la striscia di cinque risultati utili della formazione di Santa Croce di Magliano e fanno un ulteriore passo avanti verso l'obiettivo salvezza. Il pomeriggio si apre con l'emozionante minuto di raccoglimento. Al centro del campo, insieme alle due squadre e alla terna arbitrale, ci sono il fratello di Gabriele Franco, i cugini Luca e Giuseppe insieme agli amici della caserma, il nome del gruppo con il quale il giovane ragazzo scomparso ha condiviso serate e divertimento oltre alla passione per il calcio. Indossano tutti una maglietta sulla quale è stampata la sua foto. Grazie all'organizzazione di Oreste di Fortunato in collaborazione proprio con gli amici della caserma, sulle note della canzone Erba di Casamia di Massimo Ranieri, tra applausi e commozione, il TSA Stadium ha offerto il giusto tributo ad un ragazzo andato via troppo presto. Sul campo, con la direzione di gara affidata al rotondo di fratta maggiore, il match non ha riservato grandi emozioni. Alla prima azione la cliternina passa. Ottavo minuto. Sul passaggio in profondità di Cramellà per Di Lullo, la palla viene intercettata con la mano da Caiola in area. Per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto va lo stesso numero 10 che batte Chila per l'1-0. Al tredicesimo, Leonetti e Luongo nel tentativo di colpire il pallone di testa si scontrano. I due calciatori vengono soccorsi dai sanitari presenti al campo e dopo qualche minuto si torna a giocare, ad avere la peggio è il numero 6 di casa che deve uscire. Al suo posto dentro di Labbio. Al diciannovesimo ci prova la Turris, travessone di Vasile. Tipurlea para in due tempi. La sfida è bloccata, si gioca principalmente a centrocampo e non si registrano azioni degne di nota fino al riposo. Con le immagini di Loreto Cerasuolo siamo alla ripresa. Al nono, sul rinvio di Caiola, Viselli intercetta la palla e dopo aver percorso qualche metro conclude verso la porta di Chila che blocca senza problemi. Sull'altro fronte è Marcucci a provarci dalla distanza. Tipurlea, attento, respinge. La Turris cerca di alzare i giri del motore nel tentativo di riequilibrare il confronto. Minuto 39, Panico lanciato in profondità aggancia bene il pallone, ma viene fermato dall'assistente per offside e l'azione sfuma. Minuto 41, sul corner calciato da Perrotta è ancora Panico a cercare la deviazione vincente di testa, ma la sfera termina sul fondo. Svaniscono così le speranze di pareggiare da parte della Turris. La squadra di Melchiorre ha mai una bandiera bianca e rimanda l'appuntamento con il successo. Per la Cliternina un'affermazione importantissima in prospettiva salvezza. Una vittoria dedicata a Gabriele Di Vito.